Da oggi Acate non potrà più conferire rumido in discarica, nonostante sia uno dei comuni più viettuosi dove i cittadini, in maniera esemplare, differenziano il 70% dei rifiuti. Il sindaco Franco Raffo non ci sta e risponde anche alla problematica sollevata in città da numerose parti sul problema del conferimento dei rifiuti del comune di Acate che si è visto. Chiudere la porta in faccia prima da Motta Sant'Anastasia, poi da Raguse e ora da Caltagirone. Raffo parla di un grave voto politico e di una terrificante insularità culturale accusando duramente chi fa sciacallaggio, chi riesce a lucrare da una situazione di emergenza e di caos. Come sempre il sindaco di Acate non usa mezzi termini e affonda duramente. Il primo cittadino spiega di aver ottenuto il conferimento del secco allentini ma anche che improvvisamente è stato notificato da parte della Calat il divieto di conferimento degli umidi a Caltagirone. Motivo? Autorità locali competenti avrebbero ordinato alla Calat di non accettare da oggi i rifiuti umidi di Acate. A questo punto Raffo si chiede cosa se ne dovrebbe fare Acate del suo umido. Non entro nel merito ma qualcuno mi deve pur dire cosa fare, portarli a Budapest, in Germania, in Nord Italia dove li trasformano in oro, però con quali prezzi e soprattutto con quali soldi per bastonare ancora di più i cittadini? Siamo di fronte alla pura follia, ad un vuoto di potere politico istituzionale che sgomenta. Sono le parole amare e preoccupate del primo cittadino di Acate. Noi sindaci, continua Raffo, ma viviamo perennemente situazioni emergenziali. Problema rifiuti è l'esempio emblematico del fallimento della politica ed eloquente metafore di una Sicilia alla deriva. Per noi è uno schiaffo insopportabile. In appena un anno infatti siamo riusciti a fare di Acate un modello della raccolta differenziata. Acate ha infatti raggiunto il traguardo del quasi 70% di raccolta differenziata, fatta eccezione per alcune zone periferiche di Marina. Un primato, non da poco, vanificato tuttavia dal grave problema di scariche, problema che nessuno ha potuto o voluto risolvere, scrive Raffo che ha sempre sostenuto la necessità di lavorare in loco ai rifiuti per farli diventare una risorsa e quindi ridurre i costi e le tasse. Un'ipotesi che ha stentato, e non poco, a trovare i consensi anche ad Acate stesso.